A Recyclar, Mario Tonello, responsabile di Indecast che ha sponsorizzato questa manifestazione. Ci dica in che modo siete intervenuti per sostenere questa importante iniziativa. Sì, noi siamo intervenuti nel senso che l'anno scorso siamo stati un po' gli ideatori di questa manifestazione, in quanto siamo l'azienda di Castiglione che segue raccolta rifiuti, verde pubblico, discorso idrico. Ecco, facciamo questa manifestazione che comunque è la prima fatta nell'Alta Italia, dove andiamo a informare sui vari metodi di riciclo per quanto riguarda le industrie, l'alimentazione, i giochi. Ecco, ci chiamiamo di coinvolgere tutta la cittadinanza. Una cosa mirata ai bambini, alle famiglie, per poi arrivare a informare tutta la cittadinanza. Siete soddisfatti dell'iniziativa dello scorso anno? Quest'anno che cosa proponete di nuovo? Sì, siamo stati molto soddisfatti anche perché, come potete pensare, coinvolgere il pubblico su argomenti di rifiuti, di riciclo, è sicuramente questa cosa facile. Ecco, quindi è proprio che abbiamo diversificato molto tutta la manifestazione. Quest'anno abbiamo fatto dell'aggiunto, diciamo, quindi anche il caffè della scienza, abbiamo fatto poi coinvolto le scuole di danza del paese, le letture, quindi siamo così tutto un pubblico eterogeneo e sicuramente mi auguro che avrà un ottimo risultato. Tutto comunque l'insegna del riciclo. Per chi segue la nostra televisione fuori da Castiglione, spieghiamo cos'è Indecast. Sì, Indecast è la municipalizzata di Castiglione e Stiviere che si occupa per appunto del discorso igiene urbana, del verde pubblico, del discorso idrico, fognatura, ecco, tutta l'attività riguardo appunto ecologia e rifiuti. Grazie. 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 Grazie.